Buongiorno, oggi mi trovo a Ruvigliana e sono qui per mostrarvi un bellissimo appartamento di due mezzo locali completamente arredato. Mi trovo in un residence di un totale di 10 appartamenti, sono al piano terra. L'ascensore arriva fino al piano interrato dove si trova l'auto remessa. Allora, qui si accede l'ingresso, ci abbiamo un appartamento molto illuminato come zona, qui la camera e qui il bagno. Scopriamolo. Allora, atrio l'ingresso con un comodissimo armadio a muro, ampio, ambiente. Qui si trova il bagno completo di box doccia, water, lavabo e specchiera a remadretto. L'appartamento ha una superficie totale di circa 50 metri quadri, ideale per una coppia o anche un single che vuole vivere in una zona un po' prestigiosa. Questa è la stanza, 11 metri quadrati, completa di letto, veramente vari comodini e un armadio. Dalla camera poi si ha la possibilità di uscire su questo carinissimo terrazzino da cui si gode poi di una vista davvero molto molto bella. La vedremo dopo, uscendo dal salotto. Quindi, eccoci qua, zona al giorno. Qui si trova subito la cucina, completa di piano cottura, in vetro ceramica, forno all'aria calda, lavastoviglie e qui è la colonna frigorifero con congelatore interno armadietto. Piano di lavoro in granito, come anche il tavolo. Qui dei mobili che vedete resta praticamente tutto escluso, il televisore e questa cantinetta da vini che sono dell'attuale inquilino che a breve nascerà l'appartamento. Queste belle finestre, con archi, danno già una idea della bellissima vista che abbiamo qui. Andiamo a vedere il terrazzino, un terrazzino di 5-6 metri quadrati circa. È molto grande, ma da comunque la possibilità di capire anche come si può sfruttarlo. Si rilassa tranquillamente. Bellissima vista. Nel residence si trova anche una piscina con un miniale, con un giardino. Sono ammessi animali e a disposizione anche un posteggio in auto rimessa. Io vi ringrazio, venite personalmente a visitare questo bellissimo appartamento. A presto, ti affitto!